Destinazione mare, sei quello che conta e che vale Passerà però rimane solo un'ultima stagione Più un'ultima stagione, mentre suona la canzone Ti ho scritto per curare il tuo dolore Il tuo dolore, ti ho scritto per curare il mio dolore Bentornati al TG Estate, l'appuntamento quotidiano qui su Reteotto Che vi tiene informati sui principali eventi che animano la nostra estate Anche quest'oggi partiamo dagli eventi che riguardano il comune di Montesilvano Sono veramente tantissimi, allora oggi al Teatro del Mare vi aspetta Favelas Il musical di Edoardo da Silva E poi a Montesilvano Colle invece un interessante teatro dialettale Con le buffonate di Indonio e Splendore A cura degli amici della Saletta E poi in largo Venezuela oltre le parole La terza edizione del Festival Letterario di Montesilvano A partire dalle ore 19.30 E ora andiamo al Marina di Pescara nell'ambito di estatica Questa sera il concerto dell'orchestra 12 note Diretto da Riccardo Rossi Formata da 45 giovani musicisti provenienti da istituti di Pescara e provincia L'orchestra 12 note ha ora al suo attivo numerosi concerti E partecipazioni a prestigiose rassegne e manifestazioni nazionali Le musiche saranno accompagnate con la proiezione delle immagini più significative dei film citati È un appuntamento che si preannuncia davvero frizzante Sia per la giovane età degli esecutori Si tratta di un'orchestra composta da 45 elementi di giovani provenienti dagli istituti della provincia di Pescara Sia per quanto riguarda il tema scelto dalla serata che sono le musiche da film Quindi musiche che hanno un forte potere evocativo E a tutti quanti richiameranno le emozioni vissute assistendo ai classici di Hollywood E da questo punto di vista un applauso particolare va al maestro Manuela Martinelli Che è l'ideatrice e l'anima di questo progetto Non è la prima volta che collaboriamo con lei E quest'anno siamo veramente contenti di ospitare nuovamente una sua produzione E ora invece nell'ambito di Pescara Jazz Vi ricordo questa sera al teatro d'annunzio alle ore 21 e 15 D.D. Bridgewater meets Medit Orchestra Un concerto diretto da Angelo Palori E per oggi è tutto Grazie per essere stati insieme a noi Vi ricordo che potete segnalarci i vostri eventi Scrivendoci a tgestatechiocciolareteotto.it Un buon proseguimento sempre insieme a noi qui su Reteotto Destinazione mare Sei quello che conta e che vale Passerà però rimane solo un'ultima stagione Giuro l'ultima stagione Mentre suona la canzone Ti ho scritto per curare il tuo dolore Il tuo dolore Ti ho scritto per curare il mio dolore Ti ho scritto per curare il mio dolore